Il Presidente della Repubblica è eletto nell'Aula di Montecitorio dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 rappresentanti delle Regioni. Ogni Regione ne legge 3, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ne legge 1. La seduta comune del Parlamento è convocata entro un massimo di 15 giorni dalle dimissioni del Presidente ed è presieduta dal Presidente della Camera. Il primo atto della seduta comune è la lettura dell'elenco dei delegati regionali. L'Aula di Montecitorio, dove si svolgono le riunioni congiunte del Parlamento, viene opportunamente risistemata per consentire a tutti i grandi elettori di prendere posto. Quest'anno i grandi elettori saranno 1.009. La Costituzione prevede che nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per le elezioni sia quella di due terzi dei componenti dell'Assemblea, che questa volta è di 673. Dal quarto scrutinio il quorum si abbassa. Per essere eletti basterà la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 505 voti. Per consuetudine voteranno prima tutti i senatori, poi i deputati, quindi i delegati regionali. Quest'anno si entrerà in ordine alfabetico, 50 alla volta, con una capienza massima di 200 elettori in Aula. La chiama dai grandi elettori sarà ripetuta due volte. Lo spoglio è fatto dal Presidente della Camera, che legge in Aula i nomi dei candidati o uno o uno ad alta voce. Il conto delle schede viene tenuto dai funzionari della Camera e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza di Montecitorio, che si assumono il compito di scrutatori.